Dopo gli studi presso il Teatro Stabile di Catania, debutta sul Grande Schermo nel 1995 con una parte da protagonista nell'Uomo delle Stelle di Giuseppe Tornatore. Dopo il debutto e la maturità all'Istituto d'Arte di Catania decide di stabilirsi a Roma, oltre che lavorare per il cinema recita in teatro e per la televisione. Tra gli altri suoi lavori ricordiamo i film. Italiani, 1996, regia di Maurizio Ponzi, Donna di Piacere, regia di Paolo Fondato, e Volare, regia di Vittorio Dessisti. Entrambi del 1997, La stanza dello Scirocco, 1998, regia di Maurizio Sciarra, L'amore di Maria, 2002, regia di Henri. Taciccone, Solino, 2002, regia di Fati Akin, Tre Giorni d'Anarchia, 2004, regia di Vito Zagarrio, in televisione, la ricordiamo nella miniserie Brancaccio. 2001, regia di Gianfranco Albano, nelle due serie di Gente di Mare, 2005-2007, in onda su Rai 1, e nelle fiction di Canale 5 Fratelli Detective. 2009, regia di Giulio Manfredonia, e l'onore e il rispetto. 2006, regia di Salvatore Samperi.